allora ci scrive laura ciao grande pino finalmente ieri sera si è concluso il music award quello che secondo me è stato il trionfo del trash musicale assoluto c'erano proprio tutti da zuccher a liga 2 concludendo la cittadina sulla torta a podia ma c'era quella lì come si chiama amoroso amoroso quella lì che non ci sei non la sente la nota proprio non la sente la nota ma trovarti un lavoro andare a pulire i cessi magari fanno un po di pulizia presentato da quelle due nullità di ma buccari e l'hai incontrato quel leccatulo di merda proprio ah quell'altra lì che è quella il comò quella che arriva dalla spagna come se di trotea italiane non abbiamo abbastanza che un bel paese in italia ragazzi